Presidente, non ci abbandonate, siamo tutti figli della nostra nazione, non ci abbandonate! Siccome il terremoto è una zona ben circoscritta, vorremmo che non ci fosse speculazione, che gli altri comuni si aggregassero come terremotati e tutto. La zona è ben circoscritta, quindi automaticamente di accelerare i tempi, perché l'economia nostra è distrutta. Presidente, siamo onorati, pensateci! Pensateci perché siamo male! La verità è quella che compre? Noi, le nostre case sono tutte le stesse. Io sono in mare, vado a sapere che il popolo di Piazza Maestro. Siamo tutte le case dell'83. Dopo l'83 questa è. Voi che andate su, vicino alla chiesa. Io ce l'ho fatto. Io vi ringrazio, arrivederci. Aiutateci. Ma non tra dieci anni. Vi saremo morti. Abbiamo bisogno ora. Abbiamo bisogno ora. Stiamo tutti per strada. Grazie Presidente.